Sono stato subito conquistato, credo, dalle stesse cose, forse almeno, che hanno stupito, meravigliato, sbalordito anche il nostro regista. Michele, quando ho letto la sceneggiatura, poi ci siamo incontrati dopo e parlando vedevo il suo entusiasmo, ma era anche il mio, di vedere qualcosa di totalmente inaspettato. Cioè, quanta vita c'è intorno al fiume. Io non conoscevo tutto questo fermento intorno ai fiumi, quanta vita c'è da tutti i punti di vista e quanto il fiume è importante per certe persone, al punto da combattere per salvarlo, per salvaguardarlo. Quindi, innanzitutto, proprio il luogo, che è qualcosa anche di mitologico. Grazie. 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 Grazie.